Ciao Vito! Allora, sto testando, come vi ho detto prima, questa accordiera di Francesco per Tipaglia, che è molto molto interessante. Adesso vediamo un po', giusto vi faccio sentire qualcosa per giocare un po', ok? Il diverbero è molto molto accentuato, la qualità timbrica è notevole e gli overtones sono paurosamente belli, insomma, suona veramente belli questa quartiera, è difficile anche di accordare, perché è molto molto molto, ma può solire reattiva proprio, poi insomma si può impugnare anche l'arco da qui, anche al contrario, suona sempre, là, molto molto mi sembra veramente che, queste corde, ripeto, sono permanent, già appena montate, devo testare per la pilastro, devo dire che, sentite come stacca, come prende la corda, come la morte, questo non è un 4P, questo è un 8P, e il suono va, corre, 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 non finisce mai, d'acqua, 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 s'è un giro che mi sembra che paga, hai questo, in questo momento direi che sta molto bene adesso sto forzando ma 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 personalmente sono molto soddisfatto ciao Vigo sì Grazie. 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 Grazie.